Si prende pure il rimbalzo Baldasso Torna fuori da Prandin Pochi secondi sul numero dei 24 Tripla attentata Prandin Ancora in palleggio Scarico per Jan Elize da tre punti I dieci secondi del quarto Pallone nelle mani di Cavaliero Pick and roll tra lui e Jan Elize Vedremo cosa deciderà di fare il playmaker Bianco Rosso Gran scarico per Jan Elize Ora gran difesa di Bologna Che sembra aver iniziato con più aggressività Questo quarto periodo Jan Elize in palleggio Ottima difesa di Brian Però Jan Elize Fernandez da tre Sbaglia Alla fine il rimbalzo di Jan Elize